Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora ci sono notizie che mi indignano e continuano a farmi molto molto arrabbiare. Leggo stamane questa notizia di questo stabilimento balneare dove da anni ospite la Ferragni, grandi VIP tra i quali ad esempio anche Salvini, dove si scopre che questi signori pagano una miseria allo Stato e fatturano nella stagione qualcosa come 12 milioni di euro. Ecco, vedete, queste sono le cose che mi indignano per tutta una serie di motivi. Uno, la mia rabbia nei confronti dello Stato che non si fa rispettare, ma forse questo è anche il meno. Probabilmente io dico ha degli interessi, perché è evidente che probabilmente ha degli interessi politici o di altro genere di scambio di voti. In cambio di voti io chiudo un occhio e magari non ti faccio pagare quello che sarebbe il giusto. Le speculazioni da parte di questi signori nei confronti di tutti gli altri cittadini, l'arroganza di poterlo fare in questo caso. E non ultimo gli italiani. Gli italiani che assolutamente si fanno mettere i piedi in testa non reagiscono minimamente. E la cosa curiosa, quelle poche volte che si leggono certe notizie e anche denunce di quello che succede, si scopre poi molto spesso che nella maggior parte dei casi sono fatte da stranieri. Non ultima, un tedesco che in Emilia-Romagna ha denunciato il fatto che in un pub, un bar adesso, una struttura di questo tipo, ha pagato una Coca-Cola, una latina di Coca-Cola 8 euro. Oppure altre situazioni di scontrini in qualche ristorante in giro per le coste italiane assolutamente sproporzionati e dove, ripeto, le denunce spesso non le fanno gli italiani, malefanno gli stranieri. Ora, questi personaggi, anche questi influencer che sono sempre così bravi ad attaccare la controparte politica mettendo in evidenza le cose che non vanno, le contraddizioni e quant'altro. E spesso, per carità, io dico che hanno anche ragione. Non è il problema se hanno ragione o non ragione di attaccare il politico di destra perché loro sono di sinistra. Il problema è un altro che, peccato, che poi non attaccano mai i loro amici, gli amici degli amici, quelli vengono sempre protetti. Ecco, questi sono i peggiori, quelli che io proprio odio, tipo i Ferragni, che spesso balzano alle cronache per attaccare i vari personaggi, ma poi, ripeto, quando si tratta dei loro amici, come in questo caso, silenzio, mutismo assoluto, non se ne sa nulla. Ma torniamo agli italiani, invece. Gli italiani che, invece, accettano. Accettano tutto quello che succede. Accettano che ci sia ormai, sulle autostrade italiane, la pompa di benzina a 2,50, senza colpo ferire. Per molto meno, vi ricordo che qualche anno fa, gli autotrasportatori francesi hanno bloccato l'intero paese per 60 giorni, ma noi, figuriamoci, non succederà mai una cosa del genere. Quindi, di fronte a tutto questo, io continuo ad indignarmi. Quando ci sono queste notizie, continuo a riproporvele, sperando che poi, prima o poi, insomma, gli italiani ne abbiano abbastanza, che ci sia una parte che riesce a speculare, a guadagnare, ad arricchirsi, contro un'altra parte che, invece, questa possibilità non ce l'ha, perché alla fonte lo Stato gli porta via i guadagni con delle tasse assurde in tutto il paese, mentre, ripeto, questi possono evadere e non vengono controllati, possono non pagare o pagare il minimo, come questo stabilimento balneario, e non succede nulla, e così via. Ecco, questo è il punto. Questo è il fatto che mi porta a dire di continuare ad essere indignato e molto arrabbiato. Probabilmente sono uno dei pochi. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.